Noi abbiamo messo in evidenza come dobbiamo realizzare forme di giustizia riparativa attraverso esperienze di umanizzazione della pena che consentano ai territori e agli enti locali di utilizzare queste notevoli risorse umane che sono le risorse umane veicolate da coloro i quali hanno conosciuto purtroppo l'esperienza dell'errore, del delitto e del dolore. E alla luce di tutto quanto questo è giusto che il Ministero di Grazia e Giustizia si territorializzi, si renda struttura prossima rispetto ai territori per comporre progetti di utilità collettiva anche per la manutenzione del territorio. Sarebbe bene che venisse umanizzata la pena da espiare attraverso forme di riparazione con progetti di utilità collettiva. Su questo gli enti locali hanno piena contezza. La Regione ha voglia di incentivare queste esperienze di utilità collettiva per cui non manca nulla, soltanto la tenacia nel mettere a posto la documentazione nel proceduralizzare quello che deve essere fatto. Certamente poter avere a disposizione personale che oggi i comuni non hanno aiuta a dare risposta nei servizi e alla collettività. Molti comuni sono ben attrezzati in questa direzione. Quindi aver avuto oggi anche da parte del Ministero il via verso il proseguire con una Regione che deve fare la sua parte, sicuramente andrà ad incentivare alcuni di questi progetti con risultati che, ripeto, possono essere risultati importanti per dare quelle risposte alle nostre collettività.